Per parlare delle celebrazioni per il trentesimo anniversario dell'uccisione di Giuseppe Palla, il giornalista assassinato appunto trent'anni fa dalla mafia davanti al Teatro Verga di Catania, il servizio di Elisabetta Carta. Chi di voi? Chi di voi ha coraggio di venire avanti e dire che non è vero? Io sono la madre di Michele Alcala e non ho paura di voi. Non riuscivano a combatterne in nessun modo e perciò lo risentavano gli bruciarono la macchina e gli spezzarono il braccio. Voi non lo saprete com'era mio figlio, il coraggio che aveva, come sapeva trascinare la gente. Ma che? Ma che mi ha potente l'amico? Chi ha ucciso? Chi mi ha caricato? Era il 5 gennaio del 1984 quando Giuseppe Palla venne assassinato dalla mafia. Cinque i proiettili che lo raggiunsero alla nuca. Morì l'uomo, giornalista e drammaturgo, ma non le sue idee. A trent'anni di distanza, amici, familiari, scrittori, attori, mi ricordano il pensiero attraverso la lettura dei suoi scritti. Ma che so, riuscivano veramente ad arrivare un più importantissimo paese.